ci troviamo sulla passeggiata di pra nei primi 720 metri a sinistra abbiamo il canale in una pace paradisiaca a destra abbiamo le dune noi entro il 28 gennaio finiremo i lavori di questi primi 720 metri cosa abbiamo fatto in questi 720 metri abbiamo allargato la passeggiata di circa un metro e venti in modo da poter separare i flussi della ciclabile con la pedonabile in modo che non ci siano interferenze di flussi inoltre abbiamo messo in opera una ringhiera parapetto in tutto in acciaio per la sicurezza delle persone in questa zona abbiamo dovuto sostituire 9 più 7 16 palmi d'alto fusto circa 25 30 metri che erano colpite dal punto oro rosso le abbiamo sostituite con queste palme che sono Washingtonia robuste che sono molto resistenti a questo tipo di insetto ci troviamo nella prima piazza delle quattro previste del parco la piazza dei giochi dei giochi dei bambini una piazza dove potete vedere ci sono gli scivoli cavallini dove i nonni e i genitori potranno portare i bambini a divertirsi è previsto anche come potete vedere la messa in opera di qualcosa come 5000 piante tra arbusti e piante e come diciamo albero tipico di questa piazza c'è il leccio la piazza sarà terminata entro il 28 febbraio del 2023 quindi verrà restituita in quella data alla cittadinanza per poterne godere